Ciao a tutti ragazzi e buon 3 gennaio 2022. Oggi un'ufficialità, ce l'abbiamo, possiamo finalmente darla e cioè è iniziato il calciomercato. Da questo momento in poi preparatevi perché potrebbe arrivare e partire chiunque. Intanto dalla Spagna danno sempre più per fatto questo affare di Morata al Barcellona. Ora loro sono stati i primi ad azzardare questa trattativa che per me era folle, era assurda, non poteva essere veritiera, che poi si è confermata tale, concreta sotto il punto di vista di contatti, tra le parti AS oggi dice fatta al 95%, addirittura la presentazione di Morata potrebbe essere il 5 di gennaio. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo. Per tutte queste informazioni c'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione, assolutamente come al solito, un'applicazione che vi permetterà di rimanere aggiornati ora che il mercato è ufficialmente iniziato. Ve lo aprite, date un'occhiata a quello che accade e poi correte qui sul canale perché quelle notizie le commentiamo insieme. Come al solito anche un mi piace per supportare questo video e non dimentichiamoci che tra tre giorni si gioca la prima partita dell'anno nuovo e cioè Juventus-Napoli. A tal proposito ho caricato sul secondo canale YouTube una specie di analisi tattica veloce che abbiamo creato ieri insieme in live su Twitch. Vi lascio comunque qui sotto in descrizione il link del video che dura meno di due minuti e trovate sul secondo canale l'analisi tattica del Napoli. Andiamo a vedere quello che è stato il Napoli nelle ultime tre partite per capire che tipo di squadra andremo ad affrontare. Mi fa piacere che stiate rispondendo presenti anche su questo tipo di contenuti e quindi ci vediamo lì. Però dato che è iniziato il mercato e che inizia anche questo discorso legato a Morata che probabilmente se ne andrà e quindi bisognerà sostituirlo, sottolineiamolo ancora una volta, la Juventus non ha acquistato i cardi così come la Juventus non ha ceduto Morata perché la Juventus per fortuna sta ragionando come avevo invitato a fare dal bagno del treno. Ovviamente non è che sta ragionando così perché glielo ho detta io, però per fortuna sta seguendo questo filo logico che condivido. E cioè, Alvaro Morata parte se e solo se a gennaio riusciamo a trovare il giocatore che, secondo noi, è in grado di sostituirlo al meglio. Io però voglio fare un passo indietro e cioè prima che uscisse questa notizia legata ad Alvaro Morata, noi eravamo qua a dirci deve arrivare un attaccante, deve arrivare una punta, serve qualcosa in più lì davanti e ci farebbe piacere uno come i cardi. Ok? Ce lo ricordiamo quel momento, è tipo un paio di settimane fa, non è che stiamo parlando di 12 anni fa. E invece ora siamo qui che diciamo se Morata parte allora ecco che i cardi potrebbe essere il sostituto. Se ce ne andrà Morata, probabilmente sarà i cardi a prendere il suo posto da Juventus. Beh, cambia tanto. Cambia tanto perché una volta, diciamo, aggiungiamo i cardi alla rosa con Morata, in questo momento invece abbiamo praticamente già dimenticato tutti quel momento lì, che ripeto era due settimane fa, e siamo concentrati sul dentro uno fuori l'altro. Avere Morata o non avere Morata cambia tanto. Tanto Morata e i cardi è una coppia che mi affascina, mi sarebbe piaciuto vedere insieme perché Alvaro avrebbe giocato costantemente al servizio di Mauro, avrebbe cercato di fargli fare un sacco di gol. Tra l'altro ieri sul mio profilo Instagram, sul mio Twitter, un po' mappertutto, ho pubblicato alcuni dati inerenti appunto ai cardi a Morata, al confronto, gol, assist, serie A, minuti giocati, campionati nazionali, Champions League. Vi invito ad andarvele a rivedere perché, insomma, sono dati abbastanza interessanti che fanno capire quanto i cardi sia più uomo d'area di rigore, ovviamente, rispetto ad Alvaro Morata, ma questo lo sapevamo già. Qualcuno mi ha detto, tra l'altro, che dovevo togliere i rigori ad i cardi per fare un confronto più netto. Io non sono d'accordo, semplicemente perché nel calcio l'attaccante, o comunque qualsiasi giocatore, può battere anche i rigori. I rigori fanno statistica. Non è che se batti il rigore allora è più facile. È ovvio che è più facile fare gol sul rigore rispetto che è su azione, ma il rigore bisogna batterlo per essere rigorista te lo devi conquistare, quindi non sono d'accordo sul fatto che i rigori non vadano considerati. I rigori vanno considerati eccome. Certo che sì. Poi si potrebbe sottolineare il numero di rigori, ma il gol che fai su rigore vale come il gol che fai su rovesciata. Sempre uno vale. Quindi non sono d'accordo sul fatto che i rigori non continuano niente. Per niente, proprio assolutamente no. Per quanto riguarda invece questo discorso, mi ricorda terribilmente quello che facevo con Cristiano Ronaldo, nel senso che sono stato tutta estate a dire se esce Cristiano Ronaldo dentro i cardi non sono soddisfatto. Tutta estate, semplicemente perché Cristiano Ronaldo lo metto qua, i cardi lo metto qua. Nel momento in cui Cristiano Ronaldo se ne va il 28 di agosto, sono stato tre giorni a implorare l'arrivo di Mauri Cardi, a sperare, a desiderare l'arrivo di Mauri Cardi. Perché senza Ronaldo, concretamente senza Ronaldo non si ragionava più, per ipotesi, se se ne va Ronaldo allora forse no. Ronaldo se ne era andato. E in quel momento lì, Moise Ken, non lo ritenevo sufficiente, per completare l'attacco della Juventus e garantire un certo numero di gol alla squadra. Perché andatevi anche a rivedere un po' le prediction che ho fatto a inizio anno. Avevo attribuito a Morata tipo 11 gol e a Ken 12 per il termine della stagione. Quindi una ventina, meno di 25 gol in due comunque. Proprio per farvi capire che la mia fiducia nel centro avanti della Juventus non c'era, nessuno dei due casi, nessuna delle due opzioni. E quindi in quei tre giorni lì, per quanto la mia idea di fondo fosse sempre stata no, Ronaldo per Riccardi ti indebolisce e basta, in situazione di emergenza volevo correre ai ripari per acquistare Riccardi. Che ancora una volta mi ricorda la situazione di inizio anno, sia questo che l'anno scorso, dove noi partiamo con l'idea che entreremo nella lotta a Scudetto. E terminiamo l'anno scorso, e siamo in questo momento storico, quindi a metà stagione di quest'anno, con l'idea che non è la lotta a Scudetto l'obiettivo principale, ma entrare nelle prime quattro. Queste tre situazioni, no? Icardi in più e invece ora è Icardi al posto di Morata. Icardi al posto di Ronaldo no, però poi quando se ne va Ronaldo speriamo di sì. È la lotta a Scudetto però quando poi vediamo che i punti li perdiamo per strada, le altre volano e noi siamo staccati, allora è il quarto posto. Che cosa significa? Che ci siamo ridimensionati, che ci stiamo ridimensionando, che è un continuo ridimensionamento della Juventus. Perché i risultati non arrivano, perché le trattative impazziscono, perché a un certo punto gli attaccanti se ne vogliono andare. Ora, c'è da chiedersi anche perché Ronaldo questa estate se ne è voluto andare, perché a Morata ora se ne vuole andare. È ovvio che la risposta più semplice è Ronaldo aveva altre ambizioni, non si trovava più bene alla Juventus, pensava di non poter fare di più di quello che aveva già fatto con questa squadra. Alvaro Morata, affascinato dall'ipotesi Barcellona, con poco tempo alla scadenza del prestito alla Juve, decide di prolungarsi di un anno, perché si parla dei 18 mesi, contro i 6 della Juventus. Quindi queste sicuramente sono risposte valide, efficaci, vere, ma io credo che non sia solo questo. Io credo che alla Juventus qualcosa stia succedendo. Io credo che ci sia un po' di malcontento tra i giocatori, che nasce ovviamente dal fatto che, ed è sotto gli occhi di tutti, da qualche anno a questa parte, ragazzi, non si sta lavorando bene. Né dentro il campo, né fuori dal campo. E questi sono campanelli d'allarme. Sono campanelli d'allarme perché sei passato dal dominio dei nove anni in Italia, dal volerti proiettare, al acquisto Ronaldo perché così eventualmente vinco la Champions, al Cristiano Ronaldo che mi fa qualificare in Champions al quarto posto all'interno del campionato italiano. Questi sono continui gradini che noi stiamo scendendo. Infatti a me fa ridere quando qualcuno continua a dirmi, è con Scamacca non vinci la Champions, è con Icardi non vinci la Champions. Ma ragazzi, ma siamo rimasti fossilizzati al 2018? Sono passati quattro anni, è il 3 gennaio 2022. La Juventus non è più la squadra che deve vincere la Champions. Noi stiamo andando a trattare Mauro Icardi, che è sempre stato un giocatore che con l'Inter ha sempre fatto una valanga di gol anche con squadre tremende insieme all'Inter, ma Icardi con l'Inter non è che abbia mai vinto qualcosa. Non è praticamente nemmeno mai arrivato in zona Champions se non una volta. Quindi stiamo parlando comunque di un giocatore che all'interno della sua storia non è mai stato così determinante per far conquistare dei titoli della sua squadra. Stiamo parlando di un giocatore che quando va al PSG diventa una riserva, forse la riserva della riserva. Addirittura mi ricordo che c'è stato l'anno che entrava Ciupo Motting al posto di Mauro Icardi, che poi è stato ceduto. L'anno scorso è segnato più Ken. Quindi un giocatore che non viene considerato così indispensabile dal PSG. È una riserva, è uno scarto, è un giocatore che loro non vogliono più, che hanno messo sul mercato e che noi in questo momento stiamo bramando perché ci serve, perché il contesto attuale della Juventus è il seguente. Non facciamo gol, non abbiamo un attaccante con quelle caratteristiche, non abbiamo una dote come quella di Cardi all'interno della Rosa, cioè trasformare in gol anche i palloni più sporchi, perché questa Juventus, ragazzi, l'abbiamo visto, fa fatica a costruire. Costruisce poco, principalmente dall'esterno, la butta dentro. Io vado a memoria, quest'anno credo che Morata abbia fatto zero gol di testa. Quindi il centravanti della Juventus che gioca in una squadra costruita per andare sulle fasce e non fa gol di testa, capite da voi che questo è un problema. Per questo vi dico, ad oggi sì, sono dell'idea di scambiare questa cosa. Quindi Morata fuori e dentro i Cardi. Devo dirvi la verità qua, devo essere onesto con voi. Secondo me, che poi non è nemmeno il discorso di è più forte, più terzo. Ma difficilmente negli anni precedenti forse avrei detto si prendo i Cardi al posto di Morata, perché comunque Icardi è un giocatore che dobbiamo rendercene conto, dobbiamo accettarlo. È un giocatore che probabilmente in una grandissima squadra non andrebbero a cercare, andrebbero a cercare un altro tipo di giocatore, perché non è associativo come Iguain, per dirne uno non aiuta la squadra. È un giocatore che pensa anche molto a se stesso e un conto se lo fa Cristiano Rami, un conto con tutto rispetto se lo fa Mauri Cardi. Quindi il fatto che andiamo a prendere eventualmente i Cardi a gennaio è l'ennesimo motivo del perché ci stiamo ridimensionando verso il basso sempre. Però capisco che in questo momento c'è un buco, è come quando ti strappi i pantaloni, prendi la toppa e ce l'attacchi sopra. Dobbiamo coprire. È per quello che io non lo voglio con obbligo di riscatto, perché voglio arrivare a quest'estate con la libertà di programmare e dire no. L'attaccante della Juventus per i prossimi 4-5 anni sarà, Tizio Caio Sempronio Pierino e non Mauri Cardi per forza di cose perché lavorando male sono arrivato in un limbo in cui sono stato risucchiato all'interno dell'ennesimo obbligo di riscatto di un trentenne che guadagna 7-8 milioni di euro all'anno e che si trasformerà in un esubero anche per me. E questo è il punto. È ovvio che al momento serve, ma per questi sei mesi, esagero, 18, dove nel frattempo magari ti metti in giro e cerchi un'altra attaccante. Ma non lo puoi comprare a 40 milioni, che poi quei 40 milioni sono gli ennesimi soldi buttati via. Perché in questo momento sì ti serve, ti do addirittura 18 mesi e ti do un anno in più proprio, anche se io non sono di questa idea, però se questi sei mesi vanno bene possono diventare 18. Va bene, ma che non sia tuo o che se sarà tuo lo vai a pagare poco. Perché il ragionamento qual è? Anche quando abbiamo preso i Gwain, io ieri ho fatto il post, che è ovviamente ironico, sui trattacanti argentini, che accostate la Juventus arriva in un momento in cui i giovani di forma fisica non sono proprio perfetti, Gwain, Tevez e Icardi, che è diverso da stato di forma, quindi faccio gol, non faccio gol, no, proprio forma fisica, quindi un po' più rotondi rispetto al resto degli atleti. I Gwain quando arriva alla Juve ha 28 anni e non è tanto il problema che abbia 28 anni, il problema è che a 28 anni lo paghi 100 milioni di euro. 100 milioni di euro, che va bene per i due anni, i primi due anni, con 5 anni di contratto, va bene per i primi due anni alla Juventus, poi nasce l'idea di Cristiano Ronaldo, ti vai a prendere Cristiano Ronaldo, ma linea parallela in cui non arriva Ronaldo alla Juve, che anche lì Ronaldo arriva a 100 milioni di euro a 33 anni, che anche lì non è il problema dei 33 anni, è il problema dei 100 milioni di euro, perché tra Iguain e Ronaldo ne spesi 200, che non ti sono mai tornati, perché poi Iguain, dato che arriva Ronaldo, va in prestito al Milan, va in prestito al Chelsea, torna a Juve con Sarri, viene svincolato e ti sei mangiato tre anni di Iguain, che costava 20 milioni di euro all'anno, praticamente 18 milioni di euro all'anno, quindi ti sei mangiato 60 milioni di euro che non ti sono mai tornati se non i 18 che ti è andato Milan e Chelsea, però non hai utilizzato il migliore Iguain, come Cristiano Ronaldo, gli avevi fatto 4 anni di contratto, te ne ha fatti tre, ne aveva ancora 25 milioni di euro di residuo bilancio, ti sei fatto la minusvalenza perché te ne ha dati 15, perché chi te ne dà 25 per un giocatore ultra trentenne che se ne vuole andare a tre giorni alla fine del mercato, e questo è il problema, quando vai a comprare giocatori con un'età media così alta, non devi ragionare sull'età che hanno ora, perché Icardi oggi ha 28 anni, in questo momento che vi parlo ha 28 anni, tra 40 giorni ne fa 29, al termine della prossima stagione saranno 30, quindi se ne fai 4 anni di contratto tu stai mettendo il preventivo che stai parlando di un 32-33enne, quindi un giocatore ultra trentenne, e poi chi te lo compra è secondo di quanto anni di contratto devi fare, quindi sono questi i ragionamenti che devi fare, ed oggi la Juve non può più permettersi di cacciare via dei soldi come ha fatto negli altri anni, ed eventualmente il problema non è tanto l'età quanto il prezzo del cartellino, perché se ti dicono Icardi è obbligo di riscatto, te lo riscatti a 20 milioni, va benissimo, perché sai che ogni anno ti costa 5 se gli fai 4 anni di contratto, no? E quindi molto banalmente, tra 3 anni non vuoi più Icardi, 5 milioni di euro, se li trovi lo dai via tranquillamente, non fai minus valenza, pareggi il bilancio, se no sti cazzi farai minus valenza di 5 milioni, con Iguain hai fatto minus valenza di 18, con Ronaldo hai fatto minus valenza di 10, giocandoti l'ultimo anno di Iguain anche un po' così così, dandolo in prestito una volta e rescendendolo un anno prima, ed era un grande acquisto da 100 milioni, ed sono questi gli errori della Juventus, che è sempre stata lì contare il soldino, a contare la monetina, a contare il centesimo, e poi magicamente sono arrivati i soldi, e allora 100 di qua, 100 di là, 100 di su, 100 di giù, fregandosene magari della lungimiranza, lavorando solo in quel momento lì, e poi è arrivato il Covid, è arrivato il Covid, è arrivata anche una crisi all'interno del campo, che non so se te l'ha portata il Covid, o la gestione che hai avuto un po' così degli ultimi anni, e ora devi accettare il fatto che non sei più una squadra che può permettersi di dire, voglio quello, tieni i soldi, no, ora sei una squadra che si deve metterli e ragionare, ragionare prima, perché ti sei già messo in due situazioni difficili, complicate, con Ronaldo e con Morata, dove loro se ne vogliono andare, e te ti fai trovare non preparato con Ronaldo, ovviamente a tre giorni alla fine del mercato, e anche adesso, perché chi lo poteva immaginare che il Barcellona potesse venire a chiederti Alvaro Morata a gennaio, non lo potevi sapere, però parallelamente tu una strada, secondo me, aperta su un certo tipo di giocatore, che nella possibilità remota che, ce la deve avere, a maggior ragione se a gennaio già stavi cercando un attaccante da aggiungere a Morata, non da sostituire, poi è ovvio che il livello sarà diverso, però secondo me la Juventus potrebbe farsi trovare più pronta in queste situazioni, ma queste sono soltanto un po' di chiacchiere, di pensieri, di idee che avevo in testa, concludo dicendo che io non sono uno che dice, eh no, Mauri Cardi non lo voglio, perché ce ne ho lette di tutti, perché va trans, saranno faracci suoi quello che fa nella vita privata, l'unica cosa che mi aveva un po' fatto storcere il naso ultimamente, era il fatto che avesse avuto dei problemi con sua moglie, dato che era andato con un'altra, si erano separati, hai post, non ti seguo più e ti riseguo, e quindi lì sì che è un problema, nel senso che quando la tua sfera privata va dentro alla tua sfera professionale, lì è un problema, ma il fatto che lui abbia questo rapporto con sua moglie, che sia il suo procuratore, quello non mi interessa, cioè sinceramente quello non mi interessa, mi interessa che però quando scende in campo con la maglia del Juventus, si allena con la maglia del Juventus, Vandanara, il trans, i figli, quello che è, rimanga fuori tutto, e che in quel momento lì Mauri Cardi si allena e gioca da professionista, qual è? Pagato, fiori di quattrini, con la maglia del Juventus addosso, questo è tutto, noi ci vediamo sul secondo canale appunto con l'analisi tattica di Juventus-Napoli per capire che sfida ci sarà, e se le notizie dalla Spagna sono confermate, si giocherà senza Morata, che nemmeno sarà in panchina. Ah, Supercoppa confermata il 12, io sono abbastanza contento di questa cosa perché non vedo l'ora di vederla una partita del genere, Juventus-Inter e ci si gioca un trofeo, non spostatela, giochiamola è fine, cioè basta, basta con questo voglio rinviare questa, non gioco questa, basta, c'è il calendario, si segue al calendario. Grazie